Ciao, volevo fare un vlog e alla fascia di quelli che mi dicono Bella vita, te che fai sempre musica, video vorrei parlare dell'attività a cui sto lavorando ho deciso di fondare un'impresa online riconosciuta legalmente dalla denominazione Audiofollia che deriva da audiofilia ma che allo stesso tempo include la parola follia che per me è l'anima dell'arte quest'impresa si occupa di servizi legati alla musica quest'impresa però include anche servizi extra musicali ovviamente ho intenzione di fare tutto in regola infatti ho già preso partita IVA al momento ho lo studio sotto sopra quindi anche i lavori che ho in lista sono sospesi vi faccio vedere il casino insomma adesso è tutto in costruzione un principio fondamentale che non voglio trascurare è il lato umano con l'utente e diffondete più che potete questo maledetto link che è qui sotto parlatene con chi volete scrivetelo dove volete TATUATEVELO 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 TATUATEVELO